A questo punto occorrerebbe un esame filologico perché il Nosterdom, che è la poesia che vi leggerò, si può dire anche il Nostdom, ma ci sono dei momenti in cui bisogna dar retta a questa città. Voi pensate che questa città si è permessa il lusso di avere due nebbie? Perché voi conoscete soltanto quella che viene dall'alto, la nebbia, ma ce n'è una che viene dal basso, è la scighera, perché la scighera la veng su dalla risera, la sbusa alfer, la spacca ios, è terribilissima. Però nasce nel naviglio, in tutte le suppellettili, in tutti i fiumiciatoli che il naviglio le roggi, trova strada facendo, ed allora è una nebbia che diventa importante. Ecco, insomma, è come amare e scegliere, fare una bella donna, una donna intelligente, io dico sempre questa storia qua, ma è vera. Ma voi pensate che noi abbiamo i passeri a Milano che nascono già con la proncopolmonite, sulle piante non cinguettano, tossiscono, e noi, e noi lo amiamo lo stesso, perché? Perché il nostro donna che è lì, il nostro dom, la gesa di vecchia, l'acca di Milano, le ditte di marmur, le grandi, le belle, le domali, in tutto il mondo, in ci belle e in ci grande. Per capire però bisogna vestire su, sotto la santa tecula, bisogna cominciare piccinino a guardare su a quei statui, a quei ghiuli, a quei finestroni antichi, neghi, maestus dove è il suo che il giuga a scundis. Per lo dallo bisogna parlare a Meneghi, come quando si parla con il papà e con la mamma, e allora lui quando senti si risponde, il cinta su e ridi, il fa l'amoroso, il fa pensare al Signore, alla Madonna, ai poveri morti, anche ai tedeschi. Quando piove, invece, che la gente la galamutria, o d'inverno, quando i giorni scuri, freschi, nebbius, anche lui, anche lui il nostro donna diventa gris, freschi, sporchi, e si estrenge in dinibola, perché piange da tutti i part, di dentro le fosche, scondi, e si andesaspera in stupe di stempe. E Monsignor cantano lungo lungo il miserere, e a sto punto c'è di pover fiulite, di pover bagai, che, quando sento l'ongra che suona, cantano gloria in eccellis, con certe voci bianche, che vanno in alto, in alto fino a fare un boccio, un buzio, in del paradiso. Perché noi si cambiano, vengono, vengono, vengono a vestire la spagnola, in che col cilindro, du manco i gamp, per ari, a cavallo, a carossa, a peso, i tram, sul cardemort, bei brut, vestibuli, strascià, boom, un est o carogne, a seconda dell'aria che tira, ma te no! Ti domde sei sempre quel, dell'istese marmur, o santo dom, o dom di carattere. Pensa che i nostri milanessi è che lontani, in Francia, in America, o in di deserto dell'Africa, se fanno un sol in de notte. De parte vede una roba bianca che si muffa, che trema in aria, te se ti, te se ti dom, che ha portato via del cuore. E con dite, quel che ha portato via che la storia di vesti, pare della casa del campare, del bifi, della scala, della sartina, che tutti, ti dite sei come un libero stampato in vignette. E quando i tuoi fiocchi in lontano tornano in due, a quaranta chilometri da Milano cominciano a sbirciare dal finestrino del vapore, o guardano e cerchano fra i pian di ruvera, e guardano e cerchano in mezzo la nebbia di riservi, in che vede, no, sì, che parte vede, no, no. Allora vanno avanti anche a me, allora il cuore comincia a batti come un magnan. E quando avrò un tecci e una beula sotto un lice di su, e te compare se ti, o madonna benedetta del nostro dom, dite sei la mamma di tutti. E allora? E allora verrò nel nodo e dì, se piange, sangue di Dio si piange, si piange come i bagai. E vengono in mente i versi del Vespasian Bignam, o madonna indurata del dom, fino a quando che te vedi di sì, mi stu ben, sono da l'egger fuitom. Ma che il dì che te vedo più tì, o madonna indurata del dom, mi vengono all'estuf, nel nostro dom, e l'aggesa di vece, l'acqua di Milano è tutta di marmo, le grandi, le belle, non ma lì tutto il mondo è in sì bella e in sì grande. E sta tutti chi? A che passa di chi? I francesi, che noi mi chiamavano Paracar. Perché? Perché i francesi avevano una divisa bianca e nera come i Paracar, neppure neppure nemmeno, in base a tutti di chi? Ma come te che nemmeno, perché? Perché il dom, perché il dom le fa di sas, sas in cima, sas in bas, sas di fuori, sas di dent, sas i guli, i paviment, sas i ramp, i bals, e i scoss, sas, insomma, sas di scoss.